Siamo a Milano per il secondo region all'ATMP Forum, un incontro incentrato sull'impatto regionale delle terapie avanzate, che poi sono le terapie geniche, le terapie cellulari e le terapie tessutali. Abbiamo chiesto un commento su questo evento, sul suo significato a Fulvio Lucini, Managing Director Market Access di Sencora Pharmalex. Dottor Lucini, innanzitutto perché una TMP Forum regionale? Perché è importante valutare a livello delle singole regioni le sfide che pongono le terapie innovative? Perché è il secondo passo che rende possibile il raggiungimento del paziente. Nel tempo noi abbiamo sempre investito molte risorse, anche intellettuali, sul cercare di capire quali fossero le risultanze e le necessità a livello nazionale. E tutto sommato direi che questo percorso oramai è ben categorizzato. È evidente che se andiamo a vedere i tempi di accesso regionale, che hanno una media grossomodo di 200 giorni, fra il momento in cui la gazzetta ufficiale viene emanata e al momento in cui viene trattato il primo paziente, qualcosa non funziona, anche perché queste sono terapie spesso degenerative, quindi il tempo di accesso è altrettanto importante rispetto al rimborso. Per cui è chiaro che la programmazione, cioè sapere in anticipo cosa sta arrivando e programmare la regione affinché queste cure possono essere ricevute è un fattore fondamentale nel percorso di elaborazione e di distribuzione del farmaco. Quindi ecco il motivo per cui, tenendo fermo l'elemento nazionale che a ottobre avrà il suo clou con la presentazione del report, abbiamo oramai deciso da due anni che valeva la pena di fare un'attività di tipo regionale. Dottor Lucini, ci dia anche una fotografia del costo di queste terapie che, guardando i dati che ci ha presentato, non mi pare che abbiano, almeno fino adesso, l'impatto che forse le autorità centrali temevano. Beh, in effetti oggi siamo a marginalità, diciamo che siamo ad un costo inferiore ai 100 milioni di euro l'anno. Questo in parte è dovuto al fatto che la grande quantità di terapie geniche, soprattutto che si aspettavano, in realtà non sono arrivate, quindi ci sono dei ritardi dovuti a difficoltà di tipo di sviluppo clinico, quindi alcune di queste terapie non hanno raggiunto il risultato che ci si aspettava, altre hanno avuto difficoltà nel momento della negoziazione con le autorità regolatorie e quindi oggi abbiamo sul mercato 12 terapie fra CAR-T e terapie geniche. Dall'altro c'è stato uno shift di spesa perché il tempo di accesso ritardato a livello regionale ha fatto sì che non tutte le terapie si esprimessero al massimo, quindi vedremo cosa succederà nei prossimi mesi, nei prossimi anni, ma certamente oggi se consideriamo la spesa globale per i farmaci e la spesa per le ATMP siamo veramente a zero virgola. Voi avete condotto anche una salvia, una ricerca nelle varie regioni per capire come si sta muovendo questa opportunità, perché poi alla fine le ATMP sono innanzitutto un'opportunità di cura e quali sono le sfide che sono emerse come quelle più importanti? Diciamo che questa salvia in fondo rende giustizia al fatto che dobbiamo fare delle ATMP regionali, la programmazione è senz'altro l'aspetto più importante, il che non è una novità, voglio dire qualunque tipo di farmaco o qualunque tipo di attività richiede programmazione, in questo caso la programmazione è sia una programmazione di spesa ma anche una programmazione strutturale, bisogna che i centri siano pronti a ricevere questi farmaci, a derogare questi farmaci bisogna che le reti siano pronte, quindi il concetto generale è che, e si vede bene dalla survey, le regioni sono molto diverse in termini di erogazione di cura e quindi probabilmente questo deriva anche da una diversa capacità di programmazione, ovviamente senza dire buoni e cattivi ma semplicemente si vede, il dato è sostanzialmente questo, quindi bisogna parlare di attività regionali, bisogna parlare di programmazione regionale.